a chi vorrei finire il livello ma il problema è un po' di danno ma ci devo vedere forse è stato un po' di forza fa danno ma io ho giocato a... ho cattato a queste nuove ma io ho giocato a Dark Souls è stato un po' di scuola, è stato un po' di scuola che cazzo è stato un po' di scuola è stato un po' di scuola è caciuto è morto già? ah penso non c'è un altro adesso ok ah ok era troppo semplice un po' di scuola beh combattiamo hanno la stessa vita? si hanno la stessa vita pazzò adesso inizia per far sicura sento beh almeno non hanno il campo di forza ah cazzo questo fa una sfera grossa ok ah però checkpoint mi aveva dato mi sa mi sa che mi aveva dato checkpoint adesso spammo il bfg no tecnicamente fa retanna entrambi mi sa che faccio già danno entrambi mi sa che faccio già danno entrambi ok 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 Eh, qua non devo faccio un cazzo. Ma porca troia che difficile. Non so come schivarlo. Non so come schivarlo. Non so come schivare quello, sinceramente. Non so come schivare il cazzo. Non so come schivare il cazzo. Non so come schivare il cazzo. Perché mi posso stunnare quando fanno le funne di attacchi. Eh, vedi, mi stunni adesso. Perché non hanno più il campo di forza. Sono più deboli, certo? Quindi non c'è proprio questo. Posso impeghervi gli attacchi. È una strada di boss fight. Non so come... Peccato. Ca-ca-carina eh. Però è una strumpata. Non mi ha fatto capace. è un problema. Che va bene? È un problema. Io non so. Ero gioco. Ero gioco. Ero gioco. Mi99. Inferno. Inferno. Poi ho fatto questo braccio, però... Ah, mi sta riportando indietro Samuel Ok, concludiamo qui Per tanto la connessione di fare molto altro Quindi ci vediamo alla prossima Peccato che sarà una live tutta spezzettata